terza corsa all'ippodromo delle capannelle una prova per tre anni a reclamare 8.000 euro 1.640 metri l'uno santiago car due saguarra tre soffi del ronco quattro simonetta cinque santi cipriani sei super ok sette shark tor in seconda fila otto serafino hp nove special feds dieci samsara chiude con l'undici speed model macchina che accelera rinuncia completamente al lancio shark tor allo stacco emerge soffi del ronco che si porta in vantaggio all'esterno sante cipriani partito molto più sollecito del solito lungo la corda santiago car sante cipriani in cerca di posizione dovrebbe riuscire a tenerla edoardo bacalini lancio in tre dici e sette soffi del ronco conduce su sante cipriani santiago car sbaglia lungo la corda è partita molto bene dalla seconda fila samsara che si sistema alla terza posizione alla corda a precedere speed model anche anche lui partita anche lei partita bene dalla seconda fila all'esterno rimasta simonetta cavalli che vanno a chiudere i 600 iniziali con soffi del ronco e dario battistini che li rifiniscono in 45 e mezzo avanza gradualmente all'esterno adesso simonetta che offre a schiena a super ok terza pariglia esterna per serafino hp attacco del mezzo miglio conclusivo gli 800 iniziali se ne sono andati in 1 e 2 appena scarso con soffi del ronco in vantaggio sante cipriani che ne segue la scia poi samsara e speed model fatica il treno esterna lunga a palo lontano soffi del ronco che va a chiudere il chilometro in accelerazioni in 1 17 2 15 e 3 di frazione lo segue bene lungo la corda sante cipriani poi samsara e speed model discorso vittoria che dovrebbe ricordare questi quattro soggetti 400 finali 1 31 e 9 tre quarti rimiglio prova a scappare via dario battistini che entra in rete d'arrivo con una decina di metri di vantaggio su sante cipriani rompe samsara finisce bene speed model 200 conclusivi con soffi del ronco in vantaggio deve guardarsi dal compagno dalla compagno scuderia speed model ed è pieno per la scuderia robin si va ad affermare soffi del ronco al secondo speed model per il terzo andiamo a rivedere potrebbe essere serafino hp numero numero 8 dello schieramento vince soffi del ronco dopo perfetto percorso di testa in 2 2 1 una media ufficiosa in torno all'1 16 3 44 9 600 conclusivi è andata al comando è stata ben gestita nella prima parte da dario battistini questa figlia di broadway hall allenata e guidata da dal driver romano di proprietà da scuderia robin scuderia robin che come detto fa il pieno al secondo posto speed model al terzo lotto serafino hp è tutto per la terza corsa dare capanelle grazie a tutti